Presidente Brunetta, lei ha detto che Renzi ci ha tradito, con diversa sensibilità Forza Italia vota no a queste riforme. Abbiamo votato unanimemente, tranne uno, Rotondi, che ha votato sì, contro tutte le previsioni di tutti i giornaloni e di tutte le televisioni. Abbiamo votato compattamente no. Poi certo ci sono sensibilità diverse all'interno del nostro gruppo, sempre inferiori come diversità a quelle all'interno del Partito Democratico. Abbiamo sentito la grande novità oggi della minoranza di sinistra del Partito Democratico, che non voterà la riforma della legge elettorale se non cambierà la legge elettorale. E quindi c'è un grande contrasto, chiaro, palese, dichiarato da tutti, tra Renzi, che ha detto che non cambierà in nessun modo la legge elettorale, e la sua minoranza, che vale 70, 80, 90 parlamentari qui alla Camera e ne vale 30 al Senato. Quindi da oggi Renzi non ha più la maggioranza. E se questi 50, 60, 80 parlamentari della sinistra non avessero votato neanche oggi, la riforma costituzionale sarebbe stata sotto quota 300. Che vuol dire che Renzi non ha più la maggioranza in Parlamento, né al Senato, ma direi di più, neanche alla Camera. Siccome la legge elettorale deve tornare alla Camera, prima o poi, e Renzi la sta facendo slittare sempre più in avanti, tempi duri per il Presidente che non c'è, che oggi non c'era, il Presidente che ha di fatto prodotto un cattivo, cattivissimo, pericoloso, combinato, disposto, di una pessima legge elettorale e di un'ancor peggiore riforma costituzionale. Ripeto, le sensibilità diverse all'interno del nostro partito, tutte rispettabilissime, sono nulla nei confronti di questa che è la notizia di oggi. Renzi non ha più la maggioranza in Parlamento. Sento Presidente, 17 parlamentari in Forza Italia firmano una letta...